Senta, sono ancora il dottor Viola, con il dottor Sgalla. Sì, sì, l'abbiamo detto quella nota della volante. Ho capito, guardi, noi stiamo arrivati adesso in via Montevideo e noi non vediamo nessuno ancora. Stiamo arrivando anche a ferma a piedi, c'è la possibilità di mandarci una macchina? Montevideo, vabbè. Sì, a Montevideo, al risultato della piazza. Io sento il dottor Viola, sono all'altezza di via Montevideo per quella volante che ci devono matare. Sì, c'è una piazza, c'è una piazza. Sì, sì, vabbè, ho capito, va bene, va bene, va bene, arrivederci.